L'ex patron del Milan Silvio Berlusconi in occasione dell'evento a Rigosacchi la Coppa degli Immortali vice la sua sul Milan e su Marco Giampaolo. Giampaolo mi pare un allenatore che ami il bel gioco con una mentalità offensiva che è la prima cosa con cui una squadra deve scendere in campo per riuscire a conquistare il campo a praticare il bel gioco, a vincere convincendo gli spettatori di aver avuto ragione e di aver avuto anche giustamente la vittoria. Chi amerà per dargli un consiglio a Gian Paolo? Io ho appena detto che chiederò al presidente del Milan di stare a cena o a colazione con lui e con il nuovo allenatore credo che qualche cosa di inutile potrà essere comunicato. Che cosa... Tante stelle per la ventitresima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini presentato al Salone d'Onore del CONI e in programma il 4 luglio prossimo a Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo dall'ex difensore del Milan Calazzali indimenticato Artur Zico passando per Dorotea Wierer, Federica Brignone, Mauro Balata, Andrea Gianni e Manuel Bortuzzo sono tanti i personaggi che saranno premiati per un impegno che va oltre lo sport. È il settimo anno consecutivo che Menarini decide di associare il suo nome a un'iniziativa meravigliosa che è il premio Fair Play Menarini in un momento in cui c'è tanto bisogno di Fair Play non solo nello sport dove i valori del Fair Play sono sicuramente unici e essenziali per raggiungere in maniera corretta dei risultati ma per una società civile che ha sempre più bisogno di questi valori quindi il nostro intento è di fare del premio Fair Play Menarini la vera cassa mediatica di diffusione dei valori del Fair Play. Abbiamo dei grandi personaggi a livello internazionale tra i quali abbiamo Zico, Caca Calazze che è attualmente il sindaco di Tbilisi Franco Causio, Antonello Riva, Andrea Gianni poi abbiamo Chiara Fontanesi la pluricampionessa mondiale di motocross e abbiamo anche Emanuele Bortuzzo che è il ragazzo che purtroppo ha avuto l'incidente a Roma dove li hanno sparato e immobilizzato. Quindi vi invito tutti ad arrivare a Castigliano Fiorentino per questa serata fantastica che sarà oltretutto in diretta su Sport Italia il 4 luglio alle 20.30. Penso che lo sport è sicuramente, è brutto sempre fare queste classifiche però antesignano in cima alla classifica appunto di quello che sono i valori sani della società civile e non. Lo sport è il rispetto, il rispetto di tutto, di regole, di valori e quant'altro e quindi credo che oggi più che mai ci sia la forza ma al tempo stesso il desiderio di raccontare e ricordare questi valori tramite questo premio. Complimenti. La conferenza stampa di Addio alla Roma da parte di Francesco Totti apre ad un interrogativo. Cosa farà l'ex capitano giallorosso da questo momento? Fra le ipotesi c'è un incarico alla FIGC dove un uomo con la sua esperienza di campo farebbe assai comodo. In alternativa Totti potrebbe divenire testimonial della FIFA oppure tornare in un club di calcio. La battuta del presidente della Sampdoria Ferrero che gli propone di tornare in giallorosso con lui a capo di una nuova proprietà probabilmente è soltanto una battuta ma vedere Totti magari alla Sampdoria potrebbe non essere così impossibile. Annunciato l'arrivo di Maurizio Sarri come allenatore, la Juventus può tornare a concentrarsi sul mercato calciatori per offrire al nuovo tecnico una rosa in grado di lottare per Scudetto e Champions League. Sono tre i principali obiettivi di Fabio Paratici. Il primo è Mauro Icardi. L'Inter chiede lo scambio con Paolo Di Bala ma la gioia non sembra convinto dal progetto nero-azzurro e vorrebbe provare a rilanciarsi con Sarri o tentare l'esperienza all'estero. In attacco potrebbe arrivare anche Federico Chiesa. L'accordo con il talento viola c'è già sulla base di 5 milioni l'anno. Resta da convincere il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. Infine per il centrocampo si punta a Sergei Milinkovic Savic. Il presidente della Lazio Claudio Lotito sembra aver aperto qualche spiraglio alla cessione.